Ecco le trame delle nuove puntate di Endless Love, la sopopera di produzione turca in onda su Canale 5, con gli episodi inediti, da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre a partire dalle 14.10 e sabato 19 ottobre 2024 dalle 14.45. Giovedì 17 ottobre la rete propone, a partire dalle 21.20, anche una puntata serale della serie. Endless Love, le anticipazioni dal 14 al 19 ottobre 2024. Kemal promette amore eterno a Nian, ma la paura di Emir e delle sue possibili reazioni nei confronti di Deniz tormentano la donna. Leila riesce a ottenere il ciuccio di Deniz, che Kemal intende usare per il test del DNA. Ma il piano viene compromesso perché Asu, complice di Emir, agisce nell'ombra per sabotarlo. Kemal si dirige alla clinica per il test, ma sospetta di essere seguito. Zeyr scopre che Tufan sta pedinando Kemal, costringendoli a cambiare strategia per ottenere il DNA di Deniz. Nel frattempo Feime, nonostante l'opposizione di Husein, decide di incontrare segretamente Zeynep, che soffre in solitudine. Emir continua a tramare contro i suoi rivali. Ayan si ritrova vittima di un inganno orchestrato da Emir per danneggiarlo, mentre Kemal elabora un piano per entrare in casa di Emir prima che Nian parta con Deniz. Grazie all'aiuto di Zeyr, Kemal riesce a ottenere una ciocca di capelli di Deniz per il test del DNA, e scopre di essere il padre biologico di Deniz, si lancia dunque alla ricerca di Nian e la bambina, determinato a ritrovarle. Nian si nasconde in un luogo segreto con Deniz, ma Emir, stufo della distanza, le raggiunge. Kemal, con l'aiuto di Ayan, è intenzionato a trovare Nian e sua figlia, mentre Leila è preoccupata per ciò che Emir potrebbe fare. Intanto Asu, diventata azionista della Cosquoglu Holding, cerca di farsi strada nella società, mentre sua madre Mujgan si risveglia dal coma, sconvolgendo tutti. Kemal, dopo aver letto il diario di Nian su Deniz, è colmo di rabbia e accusa Nian di avergli rubato un anno di vita della bambina. Nonostante ciò, Nian gli ricorda che in passato fu lui a rifiutare il suo aiuto. La tensione tra loro cresce, ma Kemal vuole trovare una soluzione per tutti e tre, mentre Nian teme la vendetta di Emir. Zeynep affronta una tentazione pericolosa quando incontra Emir, mentre Asu continua a tramare i suoi piani di vendetta, ordinando di sabotare l'auto di Nian. Dopo un incidente, Nian viene ricoverata in ospedale in gravi condizioni e ha bisogno urgente di sangue. Kemal si rende conto che Zeynep ha lo stesso gruppo sanguigno e corre a prenderla, mentre Emir cerca di impedirgli di avvicinarsi alla sala operatoria. Dove vedere Endless Love in TV e in streaming? Le nuove puntate di Endless Love vanno in onda su Canale 5 da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre a partire dalle 14 e 10 e sabato 19 ottobre 2024 dalle 14 e 45. Giovedì 17 ottobre la rete propone, a partire dalle 21 e 20, anche una puntata serale della serie. Endless Love è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.